Rieccoci su Zetsubunoshima ragazzi Allora dopo il video di questa mattina ragazzi direi di iniziare a giocare sul serio e girarci per bene questa mappa Allora vediamo un po' di fare subito il primo round veloce che così cominciamo ad aprire un po' di porte Che voglio andare a vedere in laboratorio, oh un seme, molto bene Ecco possiamo andare a chiudere così facciamo altri po' di punti Il seme converebbe alza un po' la sensibilità Ecco uno che arriva da là, non è da nessuno, vieni a papino, vieni a papino, perfetto Perfetto, eccone due, uno a te e uno a te, apposto Allora qua ci possiamo piantare il seme E annaffiare Per colpire revive Non funziona quella cosa Buono Non muori? Ok Vediamoci il quick revive così almeno in un modo o nell'altro siamo tranquilli Perfetto 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 Allora Che c'è sta? Qua abbiamo visto che ci stanno munizioni 530 Ancora non ci facciamo una pazza Ok Allora due già ci siamo fatti di round Qua ci sta la trappola delle eliche Però ci serve la corrente Dobbiamo capire un attimo come attivare la corrente Quanto serve qua? Mille Allora mille ci vuole ancora un pochettino Ok Calevasse da sti pizzi Che è troppo pericoloso Boom Adesso ridete ancora porci infernali Nicolai non ci trova nulla di divertente Grande Nicolai Allora Adesso giochiamo tranquilli qua Da sti parti ci doveva stare la fonte Per andare a prendere l'acqua contaminata Eccola qua Bene Come posso usare l'acqua magica? L'acqua magica Morto Belli veloci perché mi sembra molto stretta sta mappa Cacchio Per toccarmi grazie Via Ce li ho dietro vero? C'ho paura sempre che mi arriva qualcuno dalle spalle Aspetta Vedete se dietro arriva qualcuno Abbiamo andato pure alla ricerca Oh cacchio Sono semplici spore Niente di che per un orso rivoluzionale Come Oddio Perfetto Oddio clic clic Allora andiamo a vedere Ah no pure questa La trova pure un'altra arma Pure questa però nei primi round non mi sembra affatto male Ottimo Ecco il tavolo da lavoro Andiamo attivare la corrente Perfetto Allora dobbiamo vedere un paio di cosettine Dato che qua ho visto Da questo russo riceverete soltanto razioni di morte Cacchio Per due mo' Che prende sono finiti Mo' che sono finiti cacchio Per due Allora qua c'è stava Se non ricordo male Un'altra cosa da attivare sempre di corrente Però Cioè se non l'abbiamo attivata là Qua dice Devi prima attivare l'energia Che ho? Cioè è indemoniato Adesso mi deve proprio rompere l'anima america Cioè io voglio girarmi la mappa un attimo tranquillo E questo ci deve scassare Li bolts Allora vediamo qua sotto Allora qua c'è sicuramente la gabbia e ci servirà per fare qualcosa Poi Qua Qua è chiuso Non c'è sta niente Cioè ma che so è indemoniato regà Cioè ma stai a vedere come Come sta elettrico questo fresco Poi c'è sta una rampa con delle ragnatele Con una musica strana sinceramente E basta quella ha rotto l'anima Allora andiamo a vedere Da sti pizzi che possiamo fare Allora il clicker vai l'abbiamo preso E qua c'è sta la trappola Che potremo andare anche ad aprire Ok Apri di sesamo Apri cinquanta porte Qua c'abbiamo Allora adesso funziona anche la trappola dell'elica Qua nulla Qua c'è sta la mystery box Che cacchio questo Cioè rompi proprio l'anima Cioè sei pesante E non è pesante regà Cioè mi sta proprio a rompere Cioè ancora che arriva che rompe Ah Servirebbe forse Pure un'altra arma Dov'è sta Dov'è lo Dov'è lo Bello se la mangiavo la pianta Aia E se mangia pure a me Allora rimaniamo vicino alla pianta va E' meglio Che c'è sta qualche spora da far esplodersi Eccole una Come c'è sta qualcun'altra Allora Round cinque Vieni qua va Oh gli ha stoccato la capoccia Oh no Cioè sarebbe da piantarle un po' di De piante qua in giro Ma sono fighe No regà Sono proprio fighe Quello se lo sta a mangià Lasciatemi stare la mia piantina Che intanto mi faccio Un po' di bucacchio Via Via C'è la vostra miseria Meglio cercare altre munizioni qui in zona Su Venite 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 Boom A posto Molto bene Questo Ci sta un attimo a rompe l'anima Mi sembri abbastanza lentino caro ragazzo No Si è ripreso Oh cacchio via MRG LRK Oh cacchio Qua Stiamo senza armi raga Allora andrei a prendere qua che ci sta la HVK Non è ripreso così Ho pagato Oh non è ripreso Oh non è ripreso Oh che è La cosa non mi piace per niente regà Penso che si arriva qualche ragno Via 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 Allora se ci serve qualche ragno Andiamo a vedere qua regà Se ci serviva per Sa trappola Vieni 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 Oh cacchio Questa è sfuta no Aia Preso Preso Oh no L'abbiamo presa regà L'abbiamo preso Ottimo Quindi forse Questo ci servirà Per qualche cosa Andiamo a vedere Devi prima attivare l'energia Cioè un continuo attivare l'energia qua Tocca rimette l'acqua L'acqua serve acqua contaminata Andiamo la prende Tanto questi mi sembrano tipo i round dei cani Quindi dovrebbero essere abbastanza tranquilli Ok Dove un po' Dove cacchio stanno sti tizi Però sono pochi oh Sbaglio A me sembrano tutti sti ragni che ci stanno eh Aspetto Non funziona più Eccolo qua Solleviamo la gabbia Oh vedi 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 Che funge Wow Prendi il pezzo Oh che abbiamo preso Il pezzo per fare il KT4 Bene Molto bene direi ragazzi Voi che dite? Anche a casa mia c'erano parecchie ragnatele Ma non come queste Allora conviene andare giù adesso Perché non sto tranquillo io Questa zona che è Un po' strettina Per Per i miei gusti Cacchio stanno arrivare Tutti quanti Via 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 Eccola Pianta pensaci te Pianta pensaci te Forza Spentra li va Goditi il pasto Pianta infernale E cerca di non vomitare Via 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 Cacchio C'è la vostra miseria quanti siete Da dove vengono Cacchio Bona Pianta Come piace a Nicolai Questo ci piace Mamma mia che numero Che numero ragazzi Allora abbiamo Un bel po' di soldini Per aprire una nuova parte Della mappa Però se non ci apre Se finisce la macchina mortale Possiamo fare una mazza Ehi è un po' Su Prima che arrivano Perfetto Liquid divinium Qua dov'è? Questa è tutta un'altra parte Devi prima attivare l'energia La stamina Ecco il tempio Ho trovato il tempio Caduta in disgrazia Non dovremo essere qui Cacchio Cominciano ad essere un bel po' Aia Cacchio Ascia No questo chi è? Questo che corpo era? Il boss Non erano mai stati così ansiosi di uccidermi No, no La peppa Sono rinato un mezzo a tutti Vabbè Ragazzi Spero che il video Sasse vostro gradimento E ci vediamo a breve Con tanti nuovi video su Zezo Bonoshima Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi sul mio canale Mettete un bel mi piace Sul mio video E ci vediamo Ovviamente Con tanti nuovi video Sempre qui Sempre Sul mio canale Ciao